L'Iraq ha dichiarato che Mosul è stata liberata dall'Isis dopo una lunga battaglia durata nove mesi che ha lasciato la città in macerie e costretto migliaia di persone in fuga. Mentre in strada ancora si festeggiava per la vittoria militare, sul posto è arrivato il premio iraccheno, visita simbolica per marcare il ripreso controllo sulla città. Alla battaglia che ha visto negli ultimi giorni intensificarsi gli scontri per combattere le ultime sacche di resistenza hanno partecipato combattenti kurdi peshmerga, i leader tribali arabosunniti e i miliziani sciiti sostenuti dai caccia della coalizione sotto il comando americano.